Regà eccoci in lobby siamo con Traster e Sissio Gamer che è mio fratello e possiamo iniziare A primo round vediamo un po' Tocca a Sissio Gamer, Sissio Gamer è facile il suo disegno Allora è un prato, è chiaramente un prato Giuseppina, non penso sia Giuseppina Traster No, che è? Ragazzi è troppo forte a sto gioco, cioè è facilissimo È facilissimo Traster No, non ci voglio Dai Linguari, sono facilissimo È facilissimo Pensa È una modalità di Fortnite È una modalità di Fortnite È facile Inizia con P Inizia con P Con Linguari Era Falco Giochi Falco Giochi Oh, l'hai indovinata? Allora, tocca a me Che cos'è Totoro? Non lo so Vabbè È un anime Oddio, aspettate, devo cercare perché non mi ricordo qual è Dimmi la parola Te lo dico io Eh, non penso Ok, penso di sapere qual è Ok, lo so La faccio difficile No, è l'inizio facile È facile Abbastanza Dei soliti a desto colore 45 gradi Dei soliti a desto colore Equatore Non penso sia l'equatore Linguari è easy Linguari 45 gradi Che significa? Eh, beh, so C'è stato Linguari è facilissimo Ma perché Non ti consigli Ma non è difficile 45 gradi Ah, è una cognometro Dai, questa è la parola Dai, è booster Quando si scrive tutti i numeretti, sì Non mi tocca a me Mi la faccio facile, dai Vai Vediamo un po' Che c'è che disegna il nostro thruster E poi ha scelto Sparco e gioco Ha scelto quella difficile Ok, io provo a indovinare subito Sarebbe divertente Oh, non mi fa scrivere Ok, sì Sarebbe stato bello Avendovinato così subito Però non è pasta, purtroppo Ma Oh Che è questa roba? Oddio Sei lettere Sei lettere, grigio e giallo Che è? Oddio Ce l'ho Nooo Pensavo fosse una chiesa Tantissimo Aspetta, chi è sta roba? Shhh Non è casa Non è casa? Voglio 10 euro Perché la Mamma mia Troppo forte, regà Più o meno Era abbastanza facile È molto facile No, ve lo consiglio per sponso Eh, l'ho capito dopo Anche io l'ho capito dopo L'ho capito solo per la S Quale S? È la S dell'aiuto Ok Andiamo a Vai Sissio Gamer Sembra un Quattro pallini Cinque Cinque Sei Non te concentrate sul numero Le usa sempre step in una miniatura Le foglie Però non è No, c'è Greta È difficilissimo Sono dei pallini No, traster Siamo dei Sensitivi Abbiamo scritto Non è una stagione È un cibo Un cibo Oh Troppo forte Troppo forte A sto giocché è troppo forte Potete chiamarmi il Kring Di Scribble Punto io Insalata Dai, dentro Terrà essere quelli che piacciono a te A me Sì Ah E devi mangiare sempre Ok La faccio difficile La faccio molto difficile Chi te indovina È un genio Ok Questa roba Come se cancella Così Ok Sì È facile Pensate bene È tutto tranne quello che è Non è Non è Spera e basta Potrebbe essere Poi Cambiamo disegno Questo è totalmente un altro disegno Ma Sono un genio, regà Per chi conosce La parola Sono un genio Ah Non viene Aspetta Aspetta Ma quella che sei far riedi Lore Che sia No Non pensa È facile Pensate bene Lore ma è quella che sei far riedi Quello No Più o meno Più o meno Aspetta Una L In mezzo Dacci l'aiuto Dacci l'aiuto È un È un signore Su un Grattacielo Che sta camminando Su una corda E c'entra E c'entra anche Spera e basta In un altro modo È facile È come trampolino Ma che è trampolino Che c'entra trampolino con sfera Ma che è cupido Ma che è cupido È un uomo Che sta su un palazzo In equilibrio E sto in equilibrio E Ligari È un uomo Che sta in equilibrio Ha capito come C'è come me lo dovevo dire È che Non avevo capito Proprio il senso Di quello Vai Questo sì Oddio Ma intanto Incominciamo Lignando Una linea dritta qua Che dovrebbe essere Dica Va bene Questa Sembra Una fiera di cani È chiaramente La fiera dei cani Quelli che saltano Aspetta Ma che è Quello Non capito Che è Non so se Scrive così Esplosione No È È caffettiera È Non si Si chiama caffettiera Secondo me C'ha un nome specifico Non me lo ricordo Eh sì Che è Fai caffè Fai il caffè Che come si chiama Caffettiera Scusa Come si chiama Scusa Oddio Quella R No Vabbè Dacci un indizio Ecco Italo Eh sì Come Italo Re C'entra Non ho idea Di che cosa Possesse Treno Treno Italo Io ne so Quando prendi Non lo so Un espresso Per Parigi Grazie Io l'ho fatta L'ho fatta all'ultimo L'ho fatta all'ultimo Ma come espresso Di fare il caffè Proprio Espresso Guarda Viene Vai Sissi Viene No aspetta Oh Molto bello Bello Non mi fa vedere D'altri colori A me Stanno sotto Bello Allora fate finta che questo è giallo Ok Giallo 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 E questo è altro giallo Che c'è va sopra Regalcio Mi sfido A indovinare Stavano La prima Che Questo Quello Quell'ho indicato E giallo Scuro E c'è va sopra Va sopra Ha una cosa gialla Con quella forma Aspetta Questa 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 è La cosa Da mangiare È gialla E questa è sempre gialla Che c'è va sopra E noi dobbiamo indovinare La cosa gialla O quella che c'è va sopra No La cosa gialla Che va sopra Ha quella cosa da mangiare Simo Simo per spiegare Cioè Ma chi è la cosa gialla Che sta sotto La patatina Questa Questa è molto difficile Non so se la indovinerete Ma ci provo Faccio l'amo stilizzato Perché è più divertente C'hanno quasi tutti La schiena curva Le mani così Una cosa che È fatta così Più o meno Non so se Se disegna Ma chi è Quasi Che siete quasi Non è rock Che è Scusa Allora Che è Dove te indovinare io Dove te indovinare voi Se ve lo dico io Oh No Ah eccolo 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 Allora È facile Ma lo devi capire Focalizzate sui capelli Sono troppo forte a disegnare Comunque C'è niente da fare Ma non si Ma ma tu Quei niente Si Quella era chiaramente Un punk Con i capelli Accresta Così All'inizio Mi veniva La punk Ok Faccio Faccio questo Vai Devo disegnare Sono Sono questo Ma che Guarda Non mi posso Da questo Indizio Anidride carbonica Ma che Anidride carbonica H2 è l'acqua Eh lo so Però che ne so Che per caso La usa Per fa Ehm Se usa Per fa Il ferro da stiro Tipo vestirà No E' acqua La prima parola E' la seconda Dage un indizio Linguari L'indizio Questo qua E' 10 settembre Penso sia 11 Dai facile Non è neanche La prima parola Pensa un po' Io pensavo La prima parola E' l'acqua Dio Dai è facile C'è Non è facile E' proprio Eh sì La prima parola E' quello Dai Torre E' perché H2O E' perché No no E' che ne so Hai messo Dai Torre Torre Vini Come di Se ci sanno Tu parole Torre Torre Di No La vostra Non c'è senso Non c'è senso Torre dell'acqua Che è torre dell'acqua Vabbè E' non so Ci sta scritto là Sissiogamer Prego Allora Questo è tipo Biancogrigia Ma dove è blu Ma E' tutto quello Fate finta che è bianco e grigia Ma perché Non c'è l'altri colori Non c'è l'altri colori Non c'è l'altri colori Sissiogamer Sei un fallitone Non di chic Non di chic Dai Ah questo è grigio Il blu che colore è? E' sempre De quel colore Sempre grigio Ok E' verde e grigio? Oh E' una cosa Così Fatta molto bene Direi Quello là Non è acqua Quella che cade E che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Non è capace Allora tutto blu Ed è bianco Questo pure è bianco Grigio Bianco Tutto bianco Tutto bianco L O Che è una gaffettiera? No E' un accendino Che serve Che serve? Che serve? Ti accende? Ti accende? La Ti accende? La Cosa? Un po' fa Ma che ne so Ma che serve? Un accendino Accende? La La? Sì Sì Bravo Trubusterigno Ma non ci arrivo Non mi dispiace No è poi Candina Ma dai Candela La candela Ma che candela è quella? Scusa Ma se te lo chiedo Come è fatta la candela? Scusami Non è ingeriggio la candela bianca Boh Disegni una cosa più difficile Ho detto bianco Ho detto è tutto bianco Sì vai Le parole Ho perso Sì Se indovina adesso potresti vincere Che è? Palla facile La parola è abbastanza difficile E fammela capire Questo è un palazzo Immaginate una città apocalittica Con un'invasione zombie Fai finta che questo è il simbolo dell'apocalisse E c'è una barriera gigante qua Che diventa sempre più trasparente Sempre più bianca Non so L'ultima parola L'ultima parola Con che inizia Non lo so Come non lo sai Dai Non posso dirlo Dai Dai su Purtroppo Qua ci stanno tutti gli amini Un po Non so La cervello Zombie La prima parola Almeno è quella che ha scritto No Scudo di acqua Sei molto realistico Come cosa Qua ci stanno soldati Con il fucile Questo è un fucile Non è barriera È un campo Probabilmente Linguari non è scudo La prima parola Questo è un campo Di qualcosa Che serve a respingere cose Quindi Respinge tutto Le cose che arrivano qua Volano via E soprattutto le cose elettromagnetiche Non posso da più dirsi Perché io con i disegni sono artistico E questa è un'opera d'arte Campo di Non è guerra Serve per difendere Se sto campo Non è Un campo di cose Da attacchi zombie O elettrici O elettromagnetici O Campo di forza Campo di forza Non c'è tra niente E vabbè fate finta che è il 2 E attenzione Qui intervengo io Perché in realtà Ho trovato un'immagine Su google Che è totalmente uguale Al disegno Che ho appena fatto Traster Quindi non dire queste cose Perché il disegno È totalmente uguale A una foto Che ho trovato a caso Dopo averla disegnata È stato divertitissimo Cioè ho trovato sta foto Ho detto Oddio È uguale alla mia E adesso ve la lascio Qui un secondino E continuiamo il video È trasparente È un campo di forza Chiaramente Ma almeno dillo Ma che è scudo di forza Noi non c'è questa qua È difficilissima Ecco fatto Vai Dai dove Ah immaginate Che questo è un mobile Un mobile? È un mobile Aspetta 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 Sì 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 Ehm Basta Cos'è Cos'è Ho vinto Ho vinto Bello Saludiamo Tutti gli ospiti Che abbiamo avuto Oggi Salutiamo Sissio Gamer Che è mio fratello Un saluto Bella E salutiamo E salutiamo Truster Che è Truster E seguitemi Su Instagram No non lo fate Un saluto Un saluto E lasciate Tanti mi piace Per portare altri ospiti Su questa serie E farli disegnare Ci vediamo Nel prossimo video Nel prossimo live Da Lolo È tutto Ciao